Due giorni di gara, 350 atleti iscritti provenienti da tutta Italia, 50 km di percorso, 2000 metri di dislivello. A Tavernerio oggi e domani i protagonisti sono le biciclette con il campionato italiano Enduro 2017. Una gara molto importante, è un grandissimo riconoscimento, dopo anni di lavoro ci è stato concesso, è un privilegio, è un gran sacrificio ma guardate voi stessi. Noi siamo una società nata nel 2012, che pian piano è cresciuta, adesso sfioriamo i 100 iscritti, è un gran lavoro di squadra. 12 categorie in gara, divise tra donne, uomini e per fasce d'età, presenti in numerosi atleti locali, la gara si articola su quattro sentieri. Noi abbiamo in carico la manutenzione dei sentieri, da Brunate fino a Tavernerio e seguiamo personalmente da anni la cura dei sentieri. Abbiamo scelto tra tutti i sentieri che percorriamo ogni giorno, questi quattro che vanno a comporre la gara del 2017. Abbiamo la maglia di campione nazionale di Enduro, mountain bike, 12 maglie, appunto divise per categorie, per età e per sesso. E abbiamo anche l'assignazione della maglia provinciale di Como, quindi anche un riconoscimento per gli atleti locali. Per il quinto anno Tavernerio protagonista. Lo sforzo organizzativo è veramente importante perché tenete presente che avere 350 corridori con tutto il seguito di meccanici, team, espositori, effettivamente ha richiesto un grosso intervento anche da parte nostra. Avere il campionato italiano è veramente un motivo d'orgoglio per un paese come il nostro che non ha tutte le risorse che hanno altri territori. Grazie a tutti.